Grazie. Il governo Monti quando ha chiesto la fiducia ha impostato più lavoro e questa questione è stata ribadita, questo approccio è stato ribadito ogni volta al Presidente del Consiglio sul tenere insieme tre dimensioni. Monti ha sempre detto che il nostro governo vuole tenere insieme risanamento, sviluppo ed equità e io considero questo approccio giusto, è una delle ragioni per cui io penso che abbiamo fatto bene a sostenere questo governo e dobbiamo continuare a sostenerlo. Ma proprio per questo io penso che bisogna rendere consapevoli tutti maggiormente che se si vuole tenere insieme risanamento, sviluppo ed equità non lo si può fare senza un ruolo da protagonisti dei comuni, senza che i comuni siano messi nelle condizioni di essere partecipe di una politica che tiene insieme queste tre dimensioni. La nostra preoccupazione che è stata manifestata qui da molti sindaci prima di me sta nel fatto che nelle politiche che si stanno perseguendo nei rapporti con gli enti locali e sulla finanza locale noi vediamo troppo spesso invece un approccio che non è coerente con l'approccio che il governo esprime. Troppe delle politiche che ci vengono proposte non tengono insieme risanamento, sviluppo ed equità e spesso anzi separano questi termini. Questa è la ragione per cui noi contestiamo per esempio l'attuale patto di stabilità. Non perché noi non si sia consapevoli che bisogna mettere in campo uno sforzo di convergenza che consenta al Paese di rientrare da un debito pubblico che è enorme. Tutti avvertiamo il fatto che il 120% del PIL è un enorme macigno sulle spalle del Paese se non lo si rimuove, si bruciano risorse enormi che andrebbero invece canalizzate in alte direzioni. Ma il punto è che questo patto di stabilità interno che regola i rapporti tra Comune e Stato non va in questa direzione. È diventata per i Comuni una prigione, è un patto di stabilità che è cieco perché non distingue tra indebitamento da spesa corrente e indebitamento da investimento, non distingue tra spesa che i Comuni sostengono per le finalità proprie e spesa che i Comuni sostengono per surrogare lo Stato nelle sue finalità rispetto alle quali inadempiente. È un patto di stabilità che non consente ai Comuni di avere quella flessibilità né sotto il profilo finanziario né sotto il profilo ordinamentale che è condizione fondamentale per governare le nostre comunità. Quindi io penso che questa sia una questione che va assunta nell'agenda, io lo ribadisco qui come l'ho detto in questi mesi in molte occasioni, assumendomi anche la responsabilità per quello che riguarda la guida del nostro Comune di non stare dentro i tetti stabiliti dal patto di stabilità. E penso che questo sia un tema non degli amministratori, questo non è un tema dei sindaci, questo è un tema dell'agenda politica. Se io avessi dovuto stare nei patto di stabilità avrei dovuto tagliare in corso d'anno 130 milioni di servizi, cosa che era impensabile, e avrei potuto fare pagamenti per 250 milioni di euro, non rispettando il patto di stabilità ho fatto pagamenti per 531 milioni di euro, che in una fase di crisi economica come quella di oggi è un'iniezione di liquidità di non poco conto nel sistema economico e produttivo. Allora io penso che questa questione sia una questione che va posta con grande forza. Noi chiediamo che i Comuni siano messi nelle condizioni di concorrere allo sforzo, da un lato di risanamento e dall'altro di rilancio della crescita sulla base di una politica di equità. E perché sia così abbiamo bisogno però che ci sia un quadro normativo e di allocazione e utilizzo delle risorse coerente. E questo oggi non c'è. Quindi la revisione del patto di stabilità è una questione fondamentale. Una seconda questione fondamentale è che noi chiediamo, l'ho detto qui in modo chiaro del Rio, che sia riconosciuta ai Comuni quell'autonomia che è condizione della flessibilità. Noi siamo in presenza di una logica che propone continuamente misure ispirate da un centralismo che introducono fattori di rigidità laddove abbiamo bisogno di invece governare avendo strumenti di flessibilità. c'è proprio una contraddizione, perfino con qualche cosa irritante. Io mi sono molto irritato questa mattina a leggere che per garantire la trasparenza delle pubbliche amministrazioni contro la corruzione bisogna controllare i sindaci. Perché mi è venuto in mente che a L'Aquila sono tutti sotto inchiesta, meno che il sindaco di L'Aquila. Bisognerà cominciare anche a parlare dei sindaci e degli enti locali con più rispetto, sapendo che quando lo Stato taglia un trasferimento, taglia un trasferimento. Quando la Regione taglia un trasferimento, taglia un trasferimento. Quando un comune taglia una cosa, taglia sulla carne viva delle persone e delle famiglie. E di questo bisogna avere maggiore rispetto e maggiore consapevolezza. E quindi noi rivendichiamo autonomia, autonomia fiscale. Io sono totalmente d'accordo con quello che ho detto Del Rio e dobbiamo dirlo così. Noi siamo pronti a vedere ridotti i trasferimenti che lo Stato conferisce ai comuni in cambio di una maggiore quota di autonomia sul piano del Limo e della fiscalità. Non chiediamo più soldi, chiediamo un meccanismo che ci consenta di avere una maggiore capacità di autogoverno delle risorse delle nostre comunità. Così come chiediamo un diverso modo di gestire tutta questa questione del demanio e delle valorizzazioni immobiliari. Qualche mese fa, chiede un mese e un mese fa, il Corriere della Sera ha pubblicato in prima pagina e ha fatto, credo, scalpore, tutti l'abbiamo letto, il caso di quella caserma di Foggia che è stata venduta per niente e adesso lo Stato deve ricomprare per molto. questo avviene esattamente quando si pensa di governare il demanio centralisticamente in un unico posto, perché se, e parlo non della mia città, più di una città a caso, se a Vigevano c'è un bene demaniale di un qualche importanza, di un valore artistico, culturale, eccetera, se lo do al comune di Vigevano, il comune di Vigevano lo valorizzerà al meglio e benissimo. Se uno dei 10.000 beni che sta in un elenco gestito da un oscuro ufficio dello Stato sarà gestito male, in modo poco trasparente e assolutamente non efficace. Allora, quando diciamo autonomia fiscale e delle risorse, vogliamo dire autonomia sul terreno della fiscalità, autonomia sul terreno del governo del territorio a partire dall'applicare il fiscalismo demaniale, il federalismo demaniale, autonomia nell'utilizzo delle risorse che competono alla nostra responsabilità. E infine, e finisco, non si può eludere il fatto che ci sono servizi essenziali, mettendo in causa i quali si mettono in causa fondamentali questioni che attengono la vita delle persone. Noi abbiamo ottenuto, e questo è certamente un merito dei nostri rappresentanti e anche di una sensibilità di questo governo, una modifica dei flussi finanziari riferiti al TPL. Vorrei segnalare che siamo ancora però all'azzeramento totale del Fondo per la non autosufficienza, che è una questione che riguarda persone debole e che se si vuole appunto non separare il risanamento da equità non si può considerare una spesa inutile la spesa per le persone non autosufficienti, che richiede le risorse necessarie. Infine la questione degli assetti istituzionali, è questione che ci trasciniamo da tempo, però io la voglio dire così, noi non possiamo continuare a stare in una discussione che, come dire, rischia di essere una discussione sul caciocavalli appesi, e cioè tiriamo via la provincia da un'intelaiatura, da un'architettura istituzionale che però rimane invariata, posta così, è priva di senso, perché un paese che ha 8 mila comuni, 5 mila dei quali con meno di 3 mila abitanti, la riforma istituzionale o la comincia da lì o non la fa, è chiaro? Perché se io mi pongo il problema di passare da 8 mila a 3 mila comuni e ci posso passare senza sconvolgere la storia di nessuno, perché se rendiamo molto più cogente lo strumento delle unioni comunali, ogni comune si tiene, il nome, i gonfaloni, la festa patronale, tutto quello che vuole, ma costruiamo delle entità amministrative che siano di dimensione adeguata a gestire i servizi, se passo da 8 mila a 3 mila, allora poi posso fare un ragionamento sull'ente intermedio e posso fare un ragionamento anche sulla regione diverso, ma se tengo 8 mila comuni, pensare di riformare l'architettura istituzionale è priva di senso, semplicemente togliendone un pezzo, il Piemonte ha 1.206 comuni, ma è realistico pensare che siamo tra 1 e 1.206, chiunque abbia un minimo di cultura dell'organizzazione sa che non funziona una cosa di questo genere, però questo pigliamolo in mano per favore, perché noi stiamo giocando di rimessa, ivi compresa la questione dei comuni, dove abbiamo giocato una partita troppo difensiva, nel senso che noi non possiamo difendere 8 mila comuni, se no non direndiamo a questo paese un'architettura istituzionale che sia capace di governare i problemi, abbiamo appunto uno strumento che ci siamo inventati, se l'è inventata la nostra cultura, perché le unioni comunali sono nate in primo luogo in Emilia Romagna, in Toscana, se l'è inventata la nostra cultura autonomistica progressista, che consente di rispettare la storia e l'identità di ciascuno, ma di costruire delle dimensioni amministrative realistiche, a partire da lì possiamo fare un ragionamento, che allora recupera la centralità delle aree metropolitane nelle grandi città e recupera anche quel tema che è stato evocato giustamente da un sindaco che ha parlato prima di me, che occorre ritornare a uno spirito costituzionale che prevede che il soggetto gestore delle politiche sul territorio è principalmente il comune e le regioni sono enti di programmazione, di legislazione, di definizione di indirizzi strategici e di allocazione di risorse di grande scala, mentre oggi rischiamo una continua sovrapposizione gestionale tra diversi enti che è un problema. Io penso che noi abbiamo tutta l'esperienza e tutta la cultura per poter rilanciare con forza una centralità del sistema delle autonomie, non in termini corporativi, cosa che non ha mai appartenuto alla nostra cultura, alla nostra storia, ma come un elemento essenziale per mettere in campo quelle politiche che ci consentano di portare il Paese fuori dalla criticità dell'emergenza nella quale si trova oggi. E il nostro sostegno a questo governo, che io penso sia stato giusto, ritengo che lo sia tuttora e credo che sarebbe un grave errore metterlo in discussione se qualcuno mai lo pensasse, penso che tra di noi non lo pensa nessuno, è reso più forte se però, se questo sostegno ha come uno dei punti fondamentali di forza il ruolo che il sistema degli enti locali può giocare nel restituire a questo Paese credibilità e stabilità. Grazie. Grazie.